Con questo video tutorial affrontiamo la questione della scrittura delle circolari in HTML. Molte delle note, non lo sappiamo, andranno poi scritte in PDF, verranno corredate di firma digitale, soprattutto quando si tratta di note che vanno poi a finire nell'albopretorio. Tuttavia è buona norma servire l'informazione anche attraverso l'HTML, che risulta molto più di veloce fruibilità, oltre che di sicura accessibilità, una volta che è ben marcato, ben organizzato, ben strutturato. E affrontiamo appunto oggi questo tema di scrittura delle circolari in HTML con uno scopo, che è quello di facilitare il lavoro del redattore e di mantenere una buona omogeneità di lettura. Per fare questo noi ci avverremo di un paio di plugin che andremo a scaricare, uno che ci consente di duplicare gli articoli e quindi di partire da una sorta circolare modello e di lavorare poi sul suo duplicato in modo da avere alcune parti fisse che non devono essere più riscritte, e poi un altro plugin che invece ci consente di gestire in modo più elegante gli allegati. Vediamo qual è il nostro punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è arrivare a una circolare tipo quella mostrata qua a video, che contiene due parti centrate che sono l'intestazione con la testata e il nome della scuola, la firma del dirigente scolastico e poi tutto il resto invece allineato sulla sinistra. Ricordiamo che centrare un testo è un'operazione che va fatta con particolare parsimonia, essendo il testo centrato qualcosa che interrompe un po' la normale lettura di un testo da sinistra verso destra e quindi soprattutto nei soggetti ipovedenti può generare un minimo di disturbo, ma questo qui teniamo appunto soltanto in casi limitati e questo può essere uno di quelli in cui è consentito l'uso. Andando poi dall'alto verso in basso, dopo la parte riferita alla testata troviamo il numero del protocollo, la data, in questo caso Milano, ma ovviamente poi uno mette quella del comune di riferimento, una parte legata ai destinatari della circolare, scritta con un carattere leggermente più piccolo, poi abbiamo un oggetto, il testo dell'oggetto, il testo e la firma. Successivamente uno spazio per inserire allegati e poi sotto qualche sigla per dare dei riferimenti sia su chi ha steso materialmente la circolare a livello di digitazione e la persona che è di riferimento per informazione o il responsabile del procedimento. Bene, detto questo ancora due informazioni generali che sono legate, uno alla scrittura dei mesi, noi tendiamo a consigliare la scrittura giorni, numero arabo, poi mese in modo completo tipo maggio, giugno, settembre, ottobre, iniziando con la lettera minuscola e poi i numeri che compongono l'anno in corso. Poi un altro elemento che si può notare è che i genitori, allunni, docenti, personale, dirigente o scolastico iniziano tutti con la lettera minuscola. Questa è una scelta che abbiamo adottato anche a livello di ufficio scolastico per la Lombardia, proprio in conformità con quelle che sono ormai le condivise indicazioni da parte di tutti i manuali di scrittura amministrativa, che appunto dicono allunni, studenti, dirigenti o altri, nomi comuni, usiamo la lettera minuscola. E tra l'altro questo è anche un invito che appare nei manuali interistituzionali pubblicati dalla comunità europea per la versante, per il versante in lingua italiana. Altri due elementi che possiamo scorgere e notare sono legati alla mancanza del punto al termine dell'oggetto. Lo trattiamo un po' come se fosse un titolo e come tale non gli inseriamo il punto alla fine, un po' come i titoli giornali che non finiscono quasi mai sul punto se non in casi estremi per rimarcare qualcosa. E invece la presenza poi del punto sarà dove, al termine delle frasi del testo e poi nel riassunto che sappiamo essere un necessario microcontenuto che accompagna ogni articolo che noi mettiamo nel nostro sito scolastico. Bene, andiamo adesso sul nostro sito di lavoro e iniziamo a produrre il tutto. Cosa facciamo per prima cosa? Ma per prima cosa io direi andiamo a installarci i due plugin così quelli li abbiamo sistemati. Allora il plugin per duplicare quelli che sono gli articoli e le pagine, quindi consentire di avere una copia e modello sempre a disposizione, si chiama, andiamo con aggiungi nuovo, duplicate post. Molto utile, fa poche cose ma quelle che fa, le fa veramente bene. Cerchiamo il plugin, eccolo qua, vedete tra l'altro ha un'ottima recensione, lo installiamo. Ok, l'effetto della presenza di questo plugin è legato appunto all'aggiunta nel momento in cui noi andiamo a vedere pagine e articoli in pannello di amministrazione, aggiungo delle funzioni e già che ci siamo aggiungiamo anche un bellissimo plugin di gestione degli pubblici allegati. Vediamo se mi ricordo il nome. Molto interessante, è un plugin tra l'altro che è molto seguito dallo sviluppatore, ecco Egetachment, questo Emanuel Ghiorion, ci siamo riferiti anche più volte a lui per avere dei consigli o a volte delle piccole sistemazioni di codice, perché negli vari sviluppi di questo plugin c'era da mantenere sempre saldo il discorso della validazione del codice e questa persona ci ha risposto sempre e in modo convincente, ha sempre risolto ogni problema che ci è capitato nel corso degli anni. Lo installiamo e poi vedremo che l'effetto dell'installazione di questo plugin sarà l'aggiunta nel nostro barra di strumenti dell'editor di una sorta di graffetta che ci consenterà al gestire gli allegati in modo ancora più veloce e se vogliamo anche bello da vedere. Bene, fatto questo andiamo adesso sui nostri articoli. In bozza troveremo già il modello di circolare che poi vedremo di far girare come allegato, se qualcuno volesse utilizzarlo, vedete, circolare, bozza. Ecco, non l'abbiamo mostrato prima di aver installato il plugin duplicate post, però vi posso dire che noi abbiamo questo clone, questa nuova bozza che prima non erano presenti. In particolare, se io voglio mantenere la bozza attiva come punto di partenza, io non cliccherò su modifica, sarò modificherò lo stesso oggetto, ma su nuova bozza, cioè la scuola che utilizza un modello lo metterà, lo salverà come bozza e utilizzerà sempre la sua copia, cioè copia in una nuova bozza, in modo che l'originale bozza rimanga sempre a disposizione. Eccolo qua, viene caricato, è già presente, contiene con una rapidissima, diciamo, lettura del codice HTML, vedete delle classi che hanno associato un foglio di stile che consente la visualizzazione che abbiamo visto precedentemente nel nostro file di esempio, vedete qui c'è un centrato, qua non lo vediamo. Tuttavia, avendo riportato tutto questo, anche in un file di stile accessorio che vi trovate nel vostro tema, possiamo anche migliorare la vista dalla parte dell'editor visuale. Quindi andiamo a fare una piccola variazione a impostazione time.mc2nsid e gli diciamo, spuntiamo importeditorstyle.css. Qual è la funzione di questa spunta? La vediamo subito, nel momento in cui noi torniamo sui nostri articoli e sulla seconda bozza, vedete che qua ne ho due, la bozza della bozza, quindi è rimasta la precedente, non rifacciamo nuova bozza, a questo punto è una modifica, perché così torniamo sull'oggetto di prima, vedete che ecco, io vedo alcuni elementi grafici che se no sarebbero stati nascosti in un momento in visuale, ma peraltro avrei visto comunque poi una volta pubblicato. Bene, lavoriamo. Allora, questo nella nostra bozza, nella bozza che voi preparerete, se lo riterrete ovviamente in modo personalizzato, ci sarà il nome della vostra scuola, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Poi noi avremo di fronte un file fatto magari con un laboratorio dei testi, tipo LibreOffice, da cui noi preleveremo il testo della circolare. Quindi lanciamo LibreOffice, ecco qua il nostro testo, ci sono degli elementi che possono essere migliorati a livello di cura della documentazione. isoliamo un po' dalla trattazione di questo video tutorial, però posso così accennare che è buon uso non avere mai dei paragrafi vuoti, perché nel momento in cui vengono letti degli screen reader creano una informazione nulla e quindi non favoriscono la migliore fruizione del contenuto da parte dei cittadini non vedenti. Questo però, ripeto, è un capitolo di buona scrittura che potrebbe essere aperto in un secondo momento, ma non è adesso lo scopo del nostro video tutorial. Questo lo lasciamo, in un istituto magari c'è una correzione da fare, magari qua noi avremo un numero, magari quella vera, sarà 352 di Milano, poniamo, non so oggi quanti ne abbiamo, 12 ottobre 2012, questa è quella completa. Noi cosa facciamo? Beh, qui riportiamo 352, 12 ottobre 2012, facciamo abbastanza in fretta, sempre che ci ricordiamo, 352, quindi doppio clicco, lo scrivo e poi qua mi metto la data odierna. Quindi, vedete, è un lavoro in questo caso di sostituzione. Poi andiamo a sostituirci invece quelli che sono i destinatari. Facciamo adesso che cosa? Una sorta di copio incollo selettivo, zona per zona. La cosa migliore è avere tutti questi elementi senza stili aggiunti, cioè senza corsivi, senza caratteri più o meno grandi, perché in questo modo il trasferimento che noi avremo da il documento in LibroOffice o eventualmente se qualche scuola ancora non sia aggiornata all'indicazione della pubblica amministrazione che dice usate software libero, usasse per caso prodotti commerciali, in maniera del tutto analoga bisogna togliere, opportuno togliere anche da queste fonti ogni informazione aggiuntiva data dagli stili del redattore. In LibroOffice basta cliccare su predefinito e se uno ha messo dei stili fantasiosi vanno via tutti. Notate anche una cosa, ai genitori degli alunni secondari ha una stessa frase e quindi o si mette sulla stessa riga o si manda a capo degli alunni secondari con shift invio, in modo che non ci sia un'interruzione di paragrafo, in questo caso adesso io mi prendo gli elementi che costituiscono i destinatari, ctrl c, vado nel mio documento Wordpress e faccio un ctrl v, è assolutamente conservata la pulizia del codice garantita dal fatto che nel file di partenza non c'erano degli stili aggiunti dall'utente. lo stesso sul test oggetto, torniamo qua, adesso qua non c'è il nome del, diciamo, l'oggetto della circolare, questa inventiamola noi, potrebbe essere ricevimento genitori 2012, magari scrivendolo in modo corretto, forse è opportuno, perfetto, quindi mi prendo la scritta, ctrl c, vado qua, su test oggetto, ctrl b, mi è andato a capo, ecco qua, sistemato il tutto, se andiamo poi in html vedete che non è stato portato assolutamente nessun elemento aggiuntivo, poi testo circolare, anche questo, dopo che mi sono accertato che è un testo predefinito, cioè senza stile aggiunti, negli altri laboratori e testi commerciali si dirà che è uno stile normal, prendo quindi col ctrl c, vado qua, sovrascrivo testo circolare, ctrl v, già bella che è fatto, c'è quel punto che è rimasto indietro, lo tiro su, il dirigente, e ho finito, perché il dirigente scolastico con il nome e cognome ci sarà nel modello, cioè si chiama, non so, Nicoletta Bianchi, e qui troverò tutto il mio modello, Nicoletta Bianchi, che è il nome del dirigente scolastico di questa ipotetica scuola, questo l'abbiamo fatto, poi si tratta qua di aggiungere soltanto, qua, nc6 Nicoletta Bianchi sarà nb, che sono il nome e cognome del dirigente, qui ci sarà, non so, Alberto Rossi, che è quello che ha redatto di fatto il documento della digitazione, poi qua ci sarà un referente, il nome che è l'eventuale numero di telefono e email per informazioni, notate che noi i telefoni non li facciamo a terne, perché questo, perché questo facilita la lettura ancora da parte delle persone che utilizzano sintesi vocali, perché la terna è molto più facile da leggere e da ricordare. Adesso dobbiamo mettere l'allegato, ecco, come si fa a inserire un allegato? Indipendentemente dall'uso del plugin, la prima operazione è sempre la stessa, è quello di caricarlo, un po' come abbiamo fatto con l'immagine, carica e inserisci, aggiungi media, selezionare file, andiamo a cercarci un file nel nostro computer, e l'avevo preparato un file PDF, che ordiniamo, eccolo qua, adesso l'ho chiamato circolare 12, immaginando fosse la circolare 12, la apro, circolare n, avevo numero quello che è, anzi, dove si può dire l'anno, dire la verità, in questo caso sarebbe stata la circolare 352 underscore 12 allegato 1, non clicco se inserisce nell'articolo, se io cliccassi con inserisce nell'articolo, in automatico il nostro sistema mette il testo che trova qua sotto titolo e gli fa direttamente il link, se io voglio usare il nostro plugin, clicco su salva tutte le modifiche, poi segno sull'X per chiudere, vado nello spazio per allegato e lo inserisco attraverso la gaffetta. Che cosa sceglierò nel mio campo? Sceglierò titolo, nome del file e dimensione, seleziono soltanto questi tre elementi e come titolo, che in questo caso vorrebbe dire titolo di marcatura di struttura, scriverò allegato o allegati più di uno e il tag sarà H3 perché abbiamo già visto che il livello più elevato di titolo che noi mettiamo sarà il 3 perché l'1 è già occupato dal nome del sito, diciamo la scuola, e il 2 invece dal nome, dal titolo dell'articolo della pagina, inserisci, viene inserito, a questo punto abbiamo fatto tutto, se non che ricordarci di inserire un riassunto, vediamo un po' che riassunto potrebbe essere, ricevimento genitore 2012 abbiamo visto che è il nostro oggetto, quindi l'oggetto lo mettiamo qua nel titolo, lunedì 8 ottobre 2012 inizia l'accevimento sanitario dei genitori, oppure facciamo qua l'altra informazione è che finisce il 25 maggio 2013, vediamo un po' un buon risulto, è un tentativo, da lunedì 8 ottobre 2012 a, siccome qua 25 è una giornata, facciamo dall'8 ottobre, poi uno che è un lunedì se lo vedrà sul calendario oppure sul testo da circolare al 25 maggio, ricevimento settimanale dei genitori, oppure il ricevimento dei genitori si effettuerà dall'8 ottobre 2012 al 25 maggio 2013, poi c'è qualcosa di importante da mettere nel riassunto molto molto breve, la maggior parte richiede la prenotazione dei genitori proprio, non tutti però, saranno comunicati e pubblicati sul sito, allora, si consiglia prenotazione, consiglia di prenotarsi e di controllare allora, facciamo gli genitori sono invitati a prenotarsi e verificare orari e disponibilità sul libretto come lo chiama qua, libretto vediamo qua, personale degli alunni, se lo metto dei propri figli, lo mettiamo pure in modo più burocratico in questo caso, degli alunni sul sito è ovvio, per cui possiamo anche non metterlo altro che qua c'è uno spazio sbagliato poi, commenti, facciamo finta di toglierli scegliamo che cosa mettere qua questa è una circolare è una circolare che è rivolta certamente ai docenti, ai genitori e agli studenti io direi anche al personale ATA qua lo vediamo anche indicato per la predisposizione degli spazi come tag, direi ricevimento così, raccogliamo qua tutte le circolari che parleranno di ricevimento questo punto, credo che abbiamo fatto tutto la pubblichiamo magari usando quell'accorgimento di metterci il numero potrebbe essere prot 352 del 12 ok pubblichiamo e vediamo un po' com'è andata a finire il tutto pubblicato andiamo a vedere il nostro sito se tutto funziona dovremmo trovarlo in home page eccolo qua, ricevimento generatore 2012 c'è il suo titolino che è già rappresentativo del contenuto se noi clicchiamo qua ce la ritroviamo ce la ritroviamo in una modalità grafica che è quella che abbiamo scelto con riassunto evidenziato su sfondo azzurro e poi una stessa e omogenea modalità comunicativa qui ci sono relegati se fossero uno sotto l'altro sarebbero elencati uno sotto l'altro diciamo l'ultima cosa anzi U2 questa la troviamo ovviamente anche in docenti genitori persone alleata studenti ma la troviamo anche nella raccolta di tag ricevimento vedete ma oltre a questo io volevo dire ancora un'ultima cosa vado in modifica articolo non mi piaceva tanto come era scritto il nome dell'allegato allora torno un attimo in carica inserisci vedo che c'è la galleria dove ritrovo l'allegato stesso e lo vado un attimo a modificare invece che chiamarlo circa 12 al 1 che è poi il nome del file adesso questo è un allegato che non è proprio allegato da circolare facciamo finta che sia questo orario di ricevimento docente poi vedrete che non c'entra nulla con questo però perché ho preso un documento a caso però è meglio così salviamo le modifiche potevamo farlo già da subito questo tipo di intervento e andiamo a vedere una volta che abbiamo aggiornato il nostro articolo che cosa è capitato vedete orario di ricevimento docenti direi che è molto comunicativamente molto più efficace piuttosto che uno poi clicca su qua se lo apre in realtà questo è una delle pagine della guida di PAS 2013